Ciao a tutti, oggi proveremo il nostro nuovo acquisto, la GoPro 11 Black. La proveremo sulle piste di Meran 2000 e faremo un confronto con il vecchio video. Ciao, buon proseguimento. Oggi siamo di nuovo sulle piste di Meran 2000, però oggi registreremo con la GoPro 11 e quindi vedremo le immagini. Che se non vale tutti i soldi che ha costato la gestiniamo? No, vedremo come verranno i video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.